Ma che bella, atto, mi sono fotografata questa attiva e non so come funziona. Che sai? E' bellissima, eh? Senta così, un guantino, un domino e bello, la cassa eccezionale. Grazie a tutti. Bella! Divertente, molto, molto divertente. La voglio. E' proprio l'olio, non diste neanche nel giardino dei re. La vorrei. Davide. Bella. Atom. Grazie. Grazie. Grazie.